Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Pagella Politica sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Giorgia Meloni sarebbe al 29,1% con Fratelli d'Italia, il PD al secondo posto con il 20,1%. Segue il Movimento 5 Stelle di Conte col 15,6%. La Lega è al 9,1% e Forza Italia al 7,4%. Il partito di Calenda è al 4,3%, quello di Matteo Renzi al 2,4%. In attesa di novità sul terzo polo, Alleanza Verdi-Sinistra è al 2,8%, più Europa al 2,3%, Italexit di Gianluigi Paragone al 2,1%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti e grazie.